in diretta sulla velocità e sto andando un po' piano se no ciao adesso sono un po' veloce sono un po' veloce guarda il nostro ristorante è qua a metà strada andiamo giù dai da dove? da qua? leggerina leggerina ok la velocità si prende un po' di velocità si prende un po' di velocità la velocità la velocità aiuto ahhh